L'attualità della rivoluzione d'ottobre, in che senso può essere definita attuale? Io ho cercato di fare il percorso partendo appunto da un discorso perché cercano di farci dimenticare la rivoluzione. Faccio un esempio, io parto da una generazione che è stata bombardata in una maniera molto sottile, permettetemi di dirlo ributtante, con una vera e propria antipropaganda, possiamo citare proprio così in passant il cartone Anastasia della Disney dove gli operai vanno a tirare i mattoni sulle finestre del Palazzo d'Inverno perché sono stati presi da un incantesimo, non è colpa loro perché la rivoluzione solo gli streoni possono farla, ci hanno propinato il dottor Givago come documento storico e mi sono chiesta perché questa contropropaganda e riflettendoci, una volta poi che ho iniziato i miei studi, i miei lavori, sono partita dall'immagine del rivoluzionario, del bolshevico come uomo senza volto, cioè ci viene sempre presentato, mai focalizzato sul singolo, sempre questa massa quasi imbarbarita che agisce contro i buoni, i borghesi, nel caso del cartone animato per bambini va a colpire, cos'è che colpisce di più un bambino? L'idea di un bambino che viene strappato dalla famiglia, gli viene distrutta la casa da questa massa senza nome, ma quando noi andiamo a vedere i documenti storici scopriamo che erano tutt'altro senza nome perché la rivoluzione è stata una forza che ha come levato il coperchio, come di una pentola a pressione, di un popolo che per secoli, secoli, secoli è stato continuamente messo a tacere, è sempre stato zittito, gli è sempre stata limitata a qualsiasi libertà di espressione e quando è saltato questo tappo, questo popolo improvvisamente ha detto io voglio parlare, io oggi voglio parlare e nasce un fermento culturale che colpisce in realtà tutte le fasce della popolazione, qual è l'unica chiave necessaria? Che essi sentano dentro la rivoluzione. Se possiamo fare un esempio, un nome chiaramente noto a tutti, io qui mi spingo forse un po', secondo me noi dobbiamo, Majakowski, alla rivoluzione, perché il giovane Majakowski quando incontra la rivoluzione a 24 anni ha comunque delle gravi crisi, non ha tentato il suicidio però ne parla spesso, è una persona alla psicologia instabile, l'unica cosa che lo salva secondo me è la rivoluzione, questo sogno, è la rivoluzione su cui lui getta tutto se stesso. Ma lasciando perdere Majakowski, possiamo, andando a vedere le riviste, i documenti, gli archivi, viene fuori l'immagine appunto di ragazzini del popolo che non hanno mai preso in mano una penna, che imparano a leggere nelle scuole, nelle scuole di partito, nelle riunioni dopo l'orario di lavoro, che hanno una fame di esprimersi, ma non solo ragazzini, tutto tutto il popolo. Possiamo fare un esempio dei sordomuti che facevano pressioni per avere un loro deputato al Soviet, che dicevano anche noi vogliamo essere liberi di esprimere le nostre necessità come parte della società civile. Possiamo, appunto, nel libro che ho preparato da poco, escono degli esempi straordinari, che appunto colpiscono tutte le fasce, si è parlato del ruolo delle donne nella rivoluzione. Colpisce una ragazzina di 16 anni, una operaglia, proprio una popolana, che parte e decide di unirsi all'esercito rosso durante la guerra civile. Può colpire invece un intellettuale, una poetessa molto raffinata come Larissa Reisner, che in realtà non aveva nessun vero motivo per abbracciare tutto il calore con cui ha fatto la causa della rivoluzione. Lei parte, diventa fra l'altro la segretaria di Trotsky e diventa la comandante della flotta fluviale rossa. Una donna, una cosa che per quell'epoca era assolutamente incredibile. Ma dietro, perché ho citato appunto la ragazzina di 16 anni, Marussia Riabinina, che fa parte di uno dei racconti, ci sono centinaia e centinaia di giovani che magari muoiono in scontri di poco conto, ma che scrivono, si informano, partecipano vivacemente a questa cosa. Quindi il discorso che voglio fare io, riallacciando su quello che dicevo all'inizio, perché forse si sforzano di farci dimenticare la rivoluzione e invece noi dobbiamo battere sulla sua attualità? Perché è una rivoluzione che ti dice che tu puoi diventare tutto, che non importa quello che sei. Chiaramente poi le cose sono andate con degli esiti che nessuno poteva prevedere, però anche il lavoro che faccio io, io cerco sempre di puntare su una ricerca di fonti, negli anni, diciamo, a partire dal 1917 per arrivare ai limiti della NEP fino al 1922, che è una delle parti più prolifiche, più avventurose, che però è stata totalmente dimenticata dalla storiografia. Perché? Perché quando è venuta poi la cappa di ferro staliniana erano troppo bizzarri e fantasiosi per poter essere inseriti nel contesto del realismo socialista. Quando poi è franato il sistema sovietico, erano troppo rossi per poter essere considerati degni di una qualche attenzione da parte di una storiografia, di una critica letteraria che ha sempre puntato tutto sui cosiddetti dissidenti. E appunto noi dobbiamo ricordarci questo, concentrarci su questa cosa e riportare il buono della rivoluzione dimostrandolo appunto il tipo di voce che lei può dare a tutti. Basta che uno l'accetti e la può dare. Io adesso vorrei fare un esempio un pochino più concreto rispetto alla qualità della rivoluzione. Io adesso sto vivendo a Napoli, sono sarda, ho vissuto a Roma, a Tisa. Sono entrata in contatto con delle realtà molto interessanti che sono i compagni dell'ex OPG liberato e dello Spugnizzo liberato, due centri sociali a Napoli che svolgono un'azione veramente dal basso ma loro dicono che qui dove lo Stato non c'è perché agiscono in quartieri del centro dove non c'è nulla non c'è la sanità, non c'è l'asilo pubblico, è tutto affidato all'iniziativa del popolo possiamo dire che comunque non ha chiaramente i mezzi necessari e stanno creando una base di dopo scuola, insegnamenti per i migranti, asilo, sportelli gratuiti fanno le mammografie al seno in maniera totalmente gratuita. Il discorso che fanno loro, che in realtà poi potremmo anche vederci un'assonanza sul rapporto che hanno stabilito i bolshevichi con la base operaia. Noi intanto hai bisogno di un sostegno, un'organizzazione, non un'organizzazione soverchiante ma metto a tua disposizione quello che io so perché così tu vedi che io ti servo. Poi dopo si parla di politica, chiaramente i bolshevichi erano molto più determinati non determinati politicamente rispetto ai compagni dell'OPG che dicono il discorso politico noi lo facciamo nel momento in cui le persone si rendono conto della nostra necessità. Quindi per tirare un po' le fila io concludo la mia riflessione sulla attualità della rivoluzione appunto riprendendo il discorso della rivoluzione che dà voce a tutti. costruisce gli strumenti per cui anche il più derilito naturalmente detto fra virgolette non detto assolutamente in senso negativo il più tutti possono esprimersi, tutti possono combattere, dipende solo dalla loro fede in un ideale ha l'idea appunto che questa cosa lungi dal dimenticarla possa essere applicata partendo dal basso e con un'organizzazione di tipo popolare.